Vedete che vi sentite spesso, ha percepito l'idea, la possibilità che possa anche rimanere lui dopo l'europeo? No, non ho mai parlato con lui di questo argomento, sicuramente. Perché onestamente poi, come tutti questi, voi sapete che sono molto rispettoso, i suoi interlocutori in questo senso devono rimanere giustamente alle sedazioni. Grazie.